Ben ritrovati. Le corruzioni e le malversazioni di un esercito di politicanti sia del nord che del sud che sta divorando il paese fa sì che gli italiani ripetano come un mantra i politici sono tutti uguali, sono dei ladri, pensano solo a riempirsi le tasche, eccetera. I media, televisioni e carta stampata sbattono in prima pagina quei mostri alla Fiorito e il cittadino viene così portato a fare di ogni erbo un fascio. E di oggi la notizia che anche il capogruppo di Italia dei Valori alla Regione Lazio, Maruccio, è indagato per peculato sulla gestione dei fondi regionali. Antonio Di Pietro gli ha dato poche ore di tempo per dimettersi da tutte le cariche e Maruccio si è immediatamente autosospeso dal partito, dimesso da capogruppo, dimesso da consigliere regionale e dimesso da coordinatore di Italia dei Valori del Lazio. Io non so se Maruccio è colpevole o innocente, questo lo deciderà la magistratura, ma ha fatto ciò che tutti i politici dovrebbero fare quando la magistratura indaga sul loro operato, dimettersi. Comunque sia, tutta la classe politica dal Parlamento ai Comuni viene messa nello stesso calderone, ma, e l'ho già detto in altre isole, la realtà non sta affatto così. Nelle istituzioni politiche ci sono anche delle persone per bene che svolgono con capacità e onestà la funzione in cui sono stati chiamati. Eccone un esempio. Martedì pomeriggio dello scorso 2 ottobre, un deputato ha presentato alla Camera un ordine del giorno che si proponeva di abolire i vitalizi ai deputati passati e futuri. Questa è la terza volta che l'On. Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori presenta questo ordine del giorno che, se venisse recepito, consentirebbe allo Stato un risparmio di oltre 150 milioni di euro l'anno. Mi chiedo perché questa notizia non ha trovato spazio nei media passando nel silenzio quasi totale, nel mentre si discute vivacemente dei costi della politica e si fanno nuovi tagli per 11,6 miliardi di euro. Probabilmente i giornali e le tv hanno ritenuto di non dare la notizia per non dispiacere ad una parte della casta politica. Io credo che pochissimi di voi che mi state seguendo ne erano a conoscenza. E allora vediamo questo progetto di Borghesi e di Italia dei Valori. L'ordine del giorno che vorrebbe abolire il vitalizio è stato presentato per la prima volta il 21 settembre del 2010, poi una seconda nel 2011 e infine, come vi dicevo, lo scorso 2 ottobre. Si proponeva di chiudere definitivamente con lo scandalo per cui ex deputati che hanno fatto i parlamentari per un solo giorno, ripeto, un solo giorno, percepiscono un assegno vitalizio di oltre 3 mila euro mensili. Oppure che ci sia la reversibilità del vitalizio per il superstite di un parlamentare anche se non erano sposati i due, ma solo erano una coppia di fatto. Sono privilegi intollerabili anche alla luce della riforma pensionistica della Fornero che manda gli italiani in pensione a quasi 70 anni e con un assegno più povero. L'ordine del giorno presentato da Antonio Borghesi prevede lo spostamento dei versamenti pensionistici dei parlamentari al loro ente di previdenza a cui erano iscritti, se svolgevano un lavoro prima di essere eletti, oppure in un fondo con una gestione separata nell'Inps. Ciò permetterebbe loro di sommare quei versamenti con gli altri accumulati nell'arco della loro vita lavorativa, secondo i normali criteri cui è soggetto ogni lavoratore, percependo così, come tutti i cittadini, una normale pensione con i tempi in base ai versamenti fatti. Ma ancora una volta il Presidente della Camera Fini e la casta politica hanno detto no. Questi rappresentanti della razza padrona politicante hanno giustificato questo no, ritenendolo questo ordine del giorno incostituzionale. Ma si sono dimenticati, poveri smemorati, che solo qualche mese fa il Parlamento ha detto sì alla riforma pensionistica della Fornero, che ha cambiato radicalmente i meccanismi della pensione ai lavoratori, eliminando di fatto le pensioni di anzianità e incidendo pesantemente sui loro diritti acquisiti. Ma per i semplici cittadini questa strana maggioranza non ha sollevato alcun problema di incostituzionalità. E allora andiamo alla domanda iniziale. Il deputato di Italia dei Valori Antonio Borghese lo mettereste nello stesso calderone assieme ai tanti fioriti che depredano il paese? Io credo proprio di no. Così fan tutti, per dirla alla Craxi, serve a questa fauna famelica per sentirsi meno colpevoli. Ma noi cittadini elettori dobbiamo sforzarsi e dividere il grano dall'olio. Perché cadere nella trappola e dire che sono tutti uguali lascia soli quei politici che in un mondo politico fatto di ladri e ruffiani cercano di fare il proprio dovere di politici seri e corretti, nonostante questa fonia che sta emergendo in tutti i settori di questa nostra povera Italia. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ci vediamo mercoledì prossimo.